Abbiamo voluto questo congresso con forza perché io mi occupo anche, sono direttore personale dell'Anzaldo, che in questo momento sta vivendo momenti di grande trasformazione, ma mai come oggi anche chi sta sul campo, che sia responsabile, che collabori o faccia parte della comunità dell'HR, mai come oggi c'è bisogno di rispondere a alcune domande. Intanto dove siamo come comunità HR e dove vogliamo andare? L'idea di farlo su una nave, usare la metafora della nave perché quando si va per nave si fanno i punti rotta, capire dove siamo ma anche chi vogliamo essere come comunità, come direttore personale, come professionisti degli HR per tracciare nuove rotte. L'idea di farlo a Genova, ma non solo a Genova, l'idea di farlo su una nave ci offrirà l'opportunità di stare anche piacevolmente insieme perché saremo su una nave che è la miraglia della grande nave veloci, ma lo faremo in un'ottica diversa, in un'ottica in cui ci saranno due plenare, il venerdì e il sabato, di altissimo profilo, dove ci verranno dati degli stimoli, delle visioni strategiche e poi andremo a lavorare, a collaborare, ad ascoltarci e a partecipare attivamente in quelle che abbiamo chiamato le wave tematiche. Quindi avremo diverse wave tematiche e chi vorrà potrà veramente avere l'opportunità di stare insieme, ma di ascoltare, di contribuire e di sentirsi protagonisti di un congresso nazionale di IP per poi continuare a farlo dal giorno dopo. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di stare insieme, di confrontarci per sapere anche dove vogliamo andare e quale rotta intraprendere insieme.